Il pezzo che si chiama Scorpione, dal mio primo connubio che ho fatto con Ilio di Paola, Scorpione è il mio figlio sindacale in tutto ciò che discuro è che fa parte della Scorpione perché è molto introverso. E quindi ho pensato con Patrizio Trampetta, la compagnia di Catacolare, di fare questo pezzo a 32 anni fa. Si chiama Scorpione, grazie. Quando mi chiede stavage è che scura sa è venga lindo o scuro a controllo che cosa che pare un luci con il fiore non lì voglio appicciarmi la lumina per capire se sta fattura può far nì e d'indo stritta va che sempre passa bene sia d'indo pure se vuoi sci non l'ho non l'ho non l'ho Vos cervecchi, gosto d'estino, sembra ancora troppo esco. Ma quando la sera sotto la luce sto a voler, e che sta faccia se può farlo. Ma quando la sera sotto la luce sto a voler, e che sta faccia se può farlo, e che sta faccia se può farlo. E che sta faccia se può farlo, e che sta faccia se può farlo. E che sta faccia se può farlo, e che sta faccia se può farlo. E che sta faccia se può farlo, e che sta faccia se può farlo. Grazie. 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 Grazie.